Sonia Pagliallunga, primo giorno di scuola, insomma benvenuta, quali sono le sue impressioni? Sì, primo giorno, sono molto entusiasta e molto contenta e sicuramente porterò il mio contributo e mi impegnerò al massimo per portarla in consiglio comunale. Lei ne viene dai municipi, arrivare in comune ovviamente è un'altra roba, ma insomma la voglia e il coraggio non le manca. Quattro anni di assessore di municipio Levante, è stata una bellissima esperienza, molto formativa, ho avuto modo di conoscere e vedere molte pratiche, molte istanze che sicuramente cercherò di mettere a frutto in consiglio comunale. Quali potrebbero essere in questo caso subito le sue priorità, su cosa le piacerebbe lavorare? Sicuramente vedremo tutto quello che può essere le segnalazioni dei cittadini che servono per migliorare la nostra città. È stato fatto moltissimo da questa giunta e da questo consiglio comunale e sicuramente proseguirò con loro per contribuire al massimo. Se la sarebbe aspettata questa chiamata? Ma no, sono molto contenta e succedo a seguito delle dimissioni del consigliere Alessio Piana, che è consigliere regionale. Lo ringrazio moltissimo per questa opportunità ed è un passaggio, è un eredito, un testimone molto prestigioso, quindi cercherò di portarlo avanti con il massimo impegno.